Ciao a tutti, oggi faremo il petto di pollo arrosto. Gli ingredienti sono mezzo petto di pollo per due persone, carote, cipolla, pomodorini, sedano e rosmarino, olio, vino bianco e sale. Procediamo. Innanzitutto prendete le carote e tagliatele a cubetti. Fate la stessa cosa con la cipolla e con il sedano. Per prima cosa arrostiamo il petto di pollo in una padella senza olio e senza nulla. Per prima cosa arrostiamo il petto di pollo. Per prima cosa arrostiamo il petto di pollo. Mettiamo i pomodorini tagliati a cubetti. e lasciamo andare insieme ancora per 5 minuti. Poi dopo aggiungeremo rosmarino e vino e chiuderemo con il coperchio. e lasciamo cuocere una mezz'ora. Lasciamo cuocere per una mezz'ora. e lasciamo cuocere per una mezz'ora. e lasciamo cuocere per una mezz'ora.